Non è assolutamente vero. Cerchio e Seno attraverso NT domanda. Il diluvio universale c'è stato veramente o si tratta di una leggenda? Alexander, ogni leggenda in definitiva ha un fondamento di verità. Poi certo la fantasia, l'immaginazione dell'essere umano, può cambiare le cose o addirittura travisarle. Un evento del genere c'è stato, ma per quanto possa sembrarvi strano, non è stato un evento che ha coinvolto tutto il pianeta, ma soltanto una parte di questo, quella parte che era conosciuta dagli antichi, quali in verità, allora conoscevano ben poco di tutto il pianeta Terra. Quello che è stato tramandato è vero, è veramente c'è stato uno sconvolgimento più che altro atmosferico. Non è assolutamente vero che sia stato provocato dall'impatto sulla Terra di un corpo stellare o cosmico, almeno in questo caso. Lo sconvolgimento è stato causato soltanto da un problema di evoluzione meteorologica, di assestamento climatico e strutturale del nostro pianeta. L'evento c'è stato e ha colpito tutta quella zona che storicamente voi conoscete come terre allora conosciute, vero? E' anche vero che gli uomini di allora costruirono delle imbarcazioni per mettersi in salvo, più di una. Questo è chiaro. Non credete che ci sia stato l'intervento divino di un Dio antropomorfo che abbia voluto punire in questo modo tutta l'umanità. E da che cosa? Dal fatto di essere spiriti incarnati per la propria evoluzione? E' molto più bello pensare ad una divinità che è solo amore e non ad una divinità antropomorfa che si arrabbia e punisce facendo perire insieme colpevoli e innocenti. Non ha senso. Capite?